Ciao ragazzi e ciao ragazze, siamo finalmente arrivati a dicembre, mese magico, mese interamente dedicato al Natale. Con oggi inizieranno i tutorial natalizi, finalmente. Quest'anno, a differenza degli anni scorsi, ci sarà una novità, ovvero la maggior parte dei tutorial che vedrete sul canale avverranno in collaborazione con Federica, del canale Federica On Suite Home. Sicuramente conoscerete Federica, anche perché io e lei abbiamo fatto una collaborazione insieme un mesetto fa circa, una collaborazione a tema, diciamo, pulizie domestiche. Federica ha un canale molto simile al mio, un canale che tratta vari argomenti, dall'home decor, al beauty, ai tutorial natalizi. Infatti l'anno scorso lei fece tantissimi tutorial a tema natalizio, uno più bello dell'altro. È una persona molto creativa, una persona che sprizza energia da tutti i poli. Vi lascerò il link del suo canale, come sempre, all'info box, in modo tale che potrete andare a vedere anche i suoi tutorial. Io non vedo l'ora di vederli, perché davvero è sempre un vulcano di idee. Veniamo ora al nostro tutorial. Allora, oggi andremo a personalizzare insieme dei vasetti, dei normalissimi vasetti da cucina, che secondo me saranno un'ottima idea regalo da fare a un'amica, a una conoscente, a una vicina di casa, insomma, a una persona alla quale magari non si sa bene che cosa regalare. È, come vedrete, un tutorial molto semplice, che richiede pochissimo materiale, principalmente dei vasetti che io ho acquistato tranquillamente al supermercato. Poi, ovviamente, nel corso del video vedrete il resto del materiale. Non sto qui ad encarvi tutto, perché altrimenti vi annoierei solamente. Per quanto riguarda la misura, diciamo, la forma dei vasetti, quello dipende dal vostro gusto, dalle vostre idee. È, come vedrete, un tutorial molto veloce da realizzare. Io spero che vi piaccia. Ripeto, sarà il primo di una lunga serie di idee che piano piano metterò in pratica. E, che dire, fatemi sapere se ricorrerete a questa idea regalo, nel caso non fosse così sicure, del regalo da acquistare a una persona voi cara. Io vi mando un bacione e vi lascio il tutorial. Per prima cosa ci occorrerà un vasetto. Io ho scelto questo con la scritta e ne ho presi due. Poi ci serviranno degli addobbi per l'albero. Io ho scelto questi due alberelli in colori diversi. della colla vinilica e un cotton fioc che useremo al posto del pennello. E, infine, della colla a caldo. Iniziamo incollando uno dei nostri alberelli sul tappo del nostro barattolino, premendo per qualche secondo finché aderisca bene la superficie. Poi con il cotton fioc distribuiamo la colla vinilica sul barattolo. Io ho scelto il seguito i contorni del cuoricino. Nel caso in cui il vostro barattolo non riportasse iscritte potrete dare sfogo alla vostra fantasia. Applichiamo poi glitter. ripetiamo poi l'operazione anche con il secondo barattolo. terminato il mio lavoro, vado a lavare accuratamente l'interno di ciascun vasetto. dal momento che i miei vasetti mi sembravano essere ancora incompleti, ho deciso di decorarli ulteriormente con del pizzo che avevo in casa. Anche quest'ultimo l'ho attaccato con la colla a caldo. 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 a caldo.